Ancora una tragedia della strada, ancora una vita spezzata, quella di Marianna Di Meglio, 14enne di Ischia Porto, travolta da un'auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali, sabato sera. L'impatto è stato violento, un volo di alcuni metri che è stato fatale per la ragazza. A guidare l'auto c'era un 24enne di Casamiccio, la Vincenzo Eppolito, risultato poi positivo alla cannabis, dopo i test tossicologici che la polizia ha fatto eseguire ai sanitari dell'ospedale Rizzoli di L'Acquamino, dopo il prelivio di sangue in ospedale, nelle fasi immediatamente successivi all'incidente. Ippolito ha soccorso la ragazza, ma non c'è stato nulla da fare, Marianna è arrivata in ospedale in condizioni disperate. Intanto, l'auto è stata sequestrata dagli uomini del vicequessore Stefania Grasso ed il PM di turno, Luigi Cannavale, che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Intanto i genitori hanno fatto richiesta per la donazione degli organi della loro figlia. Rimane il dolore e la rabbia per l'ennesimo dramma della strada.